La 29esima edizione del Festival Musicale I Luoghi della Musica si parte sabato. Sì, esatto. Sabato 15 luglio comincerà la 29esima edizione del Festival Provinciale I Luoghi della Musica che comprenderà appunto 14 concerti in 12 comuni della nostra provincia a partire dal 15 luglio e terminerà il 21 agosto. Tutto questo è stato possibile grazie alla Fondazione Carispezia, il contributo di Fondazione Carispezia nell'ambito del bando aperto del settore cultura 2023 dell'assessorato alla cultura della Regione Liguria e di tutti i 12 comuni che partecipano al Festival con il loro proloco. Il Festival è realizzato da quattro associazioni del territorio, le storiche associazioni che sono appunto l'associazione musicale di pianoforte che io rappresento, l'associazione gruppo strumentale Iperion, società dei concerti e gli amici della musica di Sarzana. Come sarà articolato il programma? Il programma appunto comprende 12 concerti che saranno dedicati a diversi generi musicali, dalla musica classica, la musica lirica, jazz, etnica, canzone d'autore e quant'altro. Il primo concerto sarà sabato 15 luglio nel Sagrato della Chiesa di Vezzano Superiore, ci sarà la Monday Big Band di La Spezia diretta da Umberso Marcilla che presenterà un programma dedicato alle American Songs and Swing degli anni 30-40. Poi dico brevemente i prossimi altri due concerti che sono il 18 luglio a Sesta Godano in cui il grande musicista e il compositori York Bosso rileggerà Piazzolla con il suo Bosso Concept Ensemble e si terrà nelle aree della corte di Sesta Godano il 18 luglio. Il 24 luglio avremo un gran concerto al Castello San Giorgio di La Spezia con finalmente Lucio, un omaggio a Lucio Battisti con canzoni di Lucio Battisti però redattate per voce, flauto, viola e pianoforte, una versione classica con una bravissima cantante che è Cristina Di Pietro e poi tanti altri concerti fino ad arrivare al 21 agosto. Comunque il programma è consultabile sul sito iluoghi della musica.web.it o altrimenti sulla pagina Facebook i luoghi della musica. I concerti sono tutti a ingresso gratuito ad eccezione dei due concerti che si svolgeranno al Castello San Giorgio però sul sito è indicato come prenotare i biglietti.